Buona la prima! Allora, ciao! Io volevo dire che questa settimana nomino Pietro perché già nella casa è già un po' di tempo che volevo nominarlo lui è sempre l'elemento che è un po' sempre in ritardo sposta il peso della bilancia non viene mai puntuale non sa cos'è l'anticipo Maria, poi volevo dire che non è giusto che avete escluso che avete escluso Antonio dal ballo perché alla fine la storia è quello del piede lo sappiamo anche Antonio l'altro giorno hai visto che bella coreografia che ha fatto anche Filippo questo è solo un buon motivo per non ascoltarvi Ciao a tutti ragazzi Buonanotte Buonanotte perché se non fossero quelli quelli dell'Esserunga poi dell'Esserunga neanche di San Montana e se c'erano appena un po' S.E. Lunga ma vuole così molto e se vedi solo la tua pancia bravino e il bacio ti sta ancora con la guanza no, ve lo farlo fare se hai voglia di portare questo o porca questo? ciao buonanotte buonanotte buonanotte